Allora ragazzi, oggi non l'ho vista la partita per motivi che non sto qua a dirvi, insomma non l'ho vista, però per come mi hanno detto prendendo anche qualche amico insomma diciamo che alla fine il punto ce lo prendiamo e ce lo teniamo, quindi di positivo sicuramente sul fatto che non abbiamo perso la partita. Per il resto mi auguro che i nuovi si prendano subito la condizione perché ne abbiamo proprio bisogno, abbiamo bisogno di un bacoco, abbiamo bisogno di Trott, abbiamo bisogno di Crecco, abbiamo bisogno che Cosenza possa inserire questi nuovi acquisti di questo mercato di gennaio, questo. Sì, sono dispiaciuto perché comunque non riesci a vincere questo benetto San Vito e un po' di dispiacere c'è, mi aspettavo che nel primo tempo, mi aspettavo che dopo il gol nel primo tempo con mio figlio parlavamo ci siamo detti forse oggi è la volta buona, vabbè non è stato così, niente, l'unica cosa perché dobbiamo subito, cioè dobbiamo prendere in considerazione il fatto che i nuovi ancora non sono in squadra e che al più presto devono far parte della formazione titolare perché se no non abbiamo bisogno di Trott, abbiamo bisogno di Bakoku, abbiamo bisogno di Crecco, insomma è questo. E poi faremo i conti più avanti, insomma. Va bene ragazzi, saluti. Grazie.